Se qualcuno ci avesse chiesto qualcosa, cosa avremmo risposto? Forse le mie frasi, vagamente comprensibili, o le tue, sicure solo negli intenti, abbiamo ordinato quello che si poteva, quello che la cucina ci offriva, la cameriera non sembrava convinta di ciò che il locale aveva da offrire. L'importante era bere la bere, mi sono detto, poi andremo a casa e se vorrò forse potrò scrivere, se vorrò forse potrò esprimere sentimenti antichi. Chi lo sa, se anche il vino fosse scadente, potrebbe fare il suo dovere, farmi parlare, o almeno parlare abbastanza. Non ci sono metafore, non ci sono scamotaggie, tutto è qui, tra queste pareti e queste fotografie, noi reali, la sembrare finte.